Ciao ragazzi, oggi vi parlerò di elezioni. No, non sarà un video polemico e no, non sarà un video in cui parlerò della politica locale. Assolutamente, è semplicemente uno spunto di riflessione che vorrei fare insieme. Lo so, è un argomento un po' diverso da quelli che tratto di solito, però è un argomento di estrema attualità. Quindi ritengo che sia giusto fare due chiacchiere insieme. Perché? Perché in questi giorni vedo tantissime persone, non solo nella città in cui abito, anche in altre. E questa cosa l'ho vista anche cinque anni fa, l'ho vista anche in altre occasioni elettorali. In questi momenti le persone, non so come dirlo, cambiano incredibilmente. Nasce un'aggressività incredibile, una competizione. Sembra quasi che non sia un momento di crescita, ma un momento di scontro. Per me, come spero anche per molti di voi, le elezioni sono un momento in cui crescere. Da un lato, per chi ha intenzione di partecipare attivamente, schierandosi, è un motivo di crescita perché è l'occasione per avvicinarsi ancora di più. Spesso in queste occasioni si formano dei gruppi nuovi, spesso si vanno a consolidare quelli vecchi. Insomma, è un momento in cui persone nuove si incontrano, è un momento in cui ci si mette lì e si mettono nero su bianco nuove idee. È un momento in cui si lavora dei progetti, è un momento di forte crescita. O almeno così dovrebbe essere. E anche dall'altro lato, anche per chi non è direttamente coinvolto nella creazione di questi progetti, anche per chi semplicemente va a votare, ma dico semplicemente ma è una cosa importantissima, anche per loro deve essere un momento di crescita perché è una grande opportunità per riuscire ad aspirare a qualcosa di meglio. O se ritiene che quello che ha attualmente sia giusto, per andarlo a riconfermare. Ripeto, non faccio riferimenti a quello che succede nella città in cui vivo, in questo momento preciso può essere riferito a qualsiasi altro momento di elezioni. Quindi mi fa particolarmente tristezza vedere queste persone perennemente in guerra, perennemente incazzate, a criticarsi, andare a cercare il pelo nell'uovo degli altri. Cioè, siate sereni. Parlate di quello che vi riguarda, parlate di quello che vivete, delle vostre proposte o delle vostre esigenze, ma senza andare ad accusare, a criticare gli altri. Cercate di sfruttare questo come un momento di crescita, non come un momento di guerra, di competizione. E vedrete che le cose probabilmente miglioreranno. Un'altra cosa che mi lascia abbastanza perplessa è come venga trasportata la politica nazionale su quella locale. A mio parere sono cose molto diverse. Per quanto ci possano essere delle ideologie in ognuno di noi che si vanno a trovare in qualche personaggio della politica nazionale, non è detto che si trovino negli stessi personaggi della politica locale. Sempre per non far nomi, uso nomi di fantasia. Se nella politica nazionale vi piace Topolino, non è detto che nella politica locale uno che si mette su il simbolo di Topolino diventi anche lui Topolino. Non è che ha le sue stesse capacità. Cioè, se vi piace Maga Magò, non è che dovete per forza votare Mago Zurli, perché magari Maga Magò è bravissima, vi piace tantissimo, ha delle competenze che Mago Zurli non ha. Non è che perché semplicemente anche lui è mago, allora deve essere anche lui capace come l'altra persona. Oltretutto, ricordatevi sempre che quando si parla di politica nazionale, adesso sempre di più anche in quella regionale o comunque nel livello un po' inferiore, ma soprattutto in quella nazionale, che è quella che vediamo sui telegiornali, quando si parla di questi ambiti, la persona che è un po' il simbolo di un partito, non è che quello che vedete, che sta dicendo, quello che sentite, è esattamente quello che pensa lui. Quello che dice nei comizi, che dice nei talk show, è semplicemente quello per cui è stato istruito. Alle sue spalle c'è un gruppo di persone addette a studiare il comportamento delle persone, a studiare tutte le varie tendenze attuali. Poi io non è il mio mestiere, quindi non sto a spiegarvi nei dettagli cose che non so. Però è ovvio, è chiaro, chiunque me lo confermerà, che c'è dietro un team di persone che prepara un discorso, che prepara un comportamento. Chi è lì fa, ovviamente ha le sue capacità, non lo metto in dubbio, però è aiutato da qualcuno. Il programma che porta, non è che se l'ha scritto lui la mattina prima di uscire di casa, il programma elettorale dico, è creato da un team di persone competenti. Quindi, in qualsiasi partito, di qualsiasi orientamento. E quindi, se in quel team ci sono delle qualità che vi piacciono, votate quel team, ma non un altro che ha lo stesso simbolo. Perché avere lo stesso simbolo non vuol dire avere le stesse capacità e non vuol dire avere alle spalle lo stesso team di persone che vi prepara quelle cose che vi piacciono. E' estremamente importante nella politica locale basarsi sulle situazioni locali, anche perché le situazioni locali potrebbero essere diverse dalle situazioni nazionali. Quindi cercate di valutare la vostra situazione, non la situazione nazionale. Cercate di scindere questo. Uno può essere, da una parte votare a sinistra, dall'altra votare a destra. Uno, oppure, può semplicemente cercare una lista civica, se si trova meglio in quella. Anche perché, a mio parere, a livello locale, sui piccoli paesi, tutte dovrebbero essere civiche e non dovrebbero entrare le politiche nazionali. Però purtroppo ci sono, purtroppo ci sono e hanno un ruolo anche parecchio, non dico fondamentale, però una grossa fetta dell'elettorato va a cercare partiti. Anche se poi non c'entrano niente con la politica locale, però molti si identificano in quelli e per qualche motivo, così, occhi chiusi, dicono Vabbè, a me piace quello, voto quello, è buono e basta. Cercate sempre di conoscere le persone. Perché i veri personaggi, quelli che faranno le cose concretamente, a partire dal giorno dopo in cui avete messo la firma, saranno le persone che avete votato. Non saranno quelle della politica nazionale. Conoscete quelle persone, parlate con loro, parlate del loro programma, esponetevi i vostri dubbi, i vostri problemi. Quelli saranno fondamentali per loro e per voi. Saranno fondamentali per voi perché una volta che l'altro interlocutore conoscerà quali sono i problemi reali del territorio, perché ovviamente uno non può conoscere tutto, quindi c'è bisogno che gli si parli, gli si spieghi un po' come stanno le cose. Quindi sarà un aiuto per voi, ma sarà un aiuto anche per l'altra persona, perché come ho appena detto, riuscirà a conoscere meglio qual è il territorio e quindi ad operare nel modo migliore. Quindi appunto parlate di persona, non affidatevi troppo ai social, agli slogan, a queste cose qui, che sono tutte cose molto costruite, molto finte. La realtà è reale, non è finta. Quindi andate a parlare di persona con queste persone. Conoscetele, cercatele, trovatele, vedrete che gli farà piacere. Se sono persone serie, oneste, disponibili, vedrete che gli farà piacere. Se così non è, probabilmente non meritano neanche il vostro voto. Però mi sembra strano che una persona che si mette in gioco, si metta in discussione, non abbia poi l'intento di discutere, di mettersi in gioco. Un'altra cosa a cui tengo molto e che mi dà molto fastidio in questi momenti sono le onlus. O meglio, non che mi dia fastidio le onlus o le associazioni. Mi dà fastidio chi si vanta di questo. Molti di noi fanno parte di associazioni, molti di noi fanno qualcosa per gli altri. E ben venga. Penso che al giorno d'oggi più che mai siano fondamentali. Però chi lo fa col cuore, chi lo fa seriamente, difficilmente se ne vanta. Oltretutto, parlate con qualcuno che faccia parte di un'associazione qualsiasi. Vi dirà che lo spirito dell'associazione è di restare fuori dalla politica. Penso che qualunque associazione sia a politica, a partitica e che non voglia nemmeno essere tirata in mezzo in queste cose. Quindi, se vedete qualcuno che vi fa l'elenco delle cose a cui fa parte, si vanta di essere membro di o di questo o di quell'altro, probabilmente o non ce l'ha molto a cuore, oppure, non lo so, sappiate che sta facendo qualcosa che è contro i principi di quell'associazione. È una strumentalizzazione che normalmente viene evitata in ogni modo, perché non fa bene a nessuno. Quindi, non lo so, dubitate un po' di chi si vanta del volontariato. Fatelo, fatelo tutti, perché è una cosa estremamente utile e anche gratificante, ma non vantatevene, non serve a niente. Un'altra cosa che si vede ogni volta, quasi ironica, però purtroppo seria, purtroppo esiste veramente, sono le promesse irrealizzabili. Cioè, in questi momenti, vedete gente che promette cose illegali, c'è gente che promette cose che magari si è già dimostrato che non sono fattibili, c'è gente che promette anche favori, c'è gente che promette qualsiasi cosa. Non credeteci. Se vi fanno una promessa, prima di dire, io che bello mi ha promesso, ragionateci un attimo, fermatevi, ragionateci, e dite, ma sarà vero? Ma sarà realizzabile? Perché gli altri non l'hanno fatto? Ragionateci bene. Può essere che gli altri non l'abbiano fatto, perché non è nelle loro ideologie, può essere che non l'abbiano fatto perché non ritenevano fosse giusto di farlo, ma può anche essere che non sia stato fatto perché non è fattibile, semplicemente. E purtroppo c'è chi vi promette delle cose irrealizzabili. Non è che perché qualcuno ve l'ha promesso, allora è certo che si possa fare. Purtroppo ci sono persone che, non dico per disonestà, ma anche magari per ingenuità o per scarsa preparazione, promettono cose che poi non sono fattibili. Se state parlando invece di qualcuno che ha già avuto l'opportunità di governare e vi fa delle promesse, magari andate a guardare che non siano le stesse identiche promesse che vi ha fatto anche cinque anni prima. Perché sai, se uno vi promette una cosa oggi e vi dice ah la faccio, ormai è già fatta, la faccio, la faccio, state tranquilli che la faccio. Dopo cinque anni vi ripromette ancora la stessa cosa? Dici vabbè, sai me l'avevi già promessa, non l'hai fatta prima, perché dovresti farla adesso? Insomma, valutate, valutate sempre. Chiunque, da qualsiasi parte, in qualsiasi città, ripeto, non sto parlando del posto in cui abito. Sto parlando in generale. Un'altra cosa brutta, ma veramente brutta, sono le promesse di posti di lavoro, di favori, se tu mi voti allora io poi ti faccio questo, se mi eleggono vedrai che allora aggiustiamo quella cosa, facciamo quell'altra. No, no. se uno vi promette una cosa del genere, è una persona disonesta, è una persona che non va votata, solo per il fatto che ve l'abbia promesso. Uno, se deve fare un lavoro pubblico o qualsiasi altra cosa, lo deve fare perché è giusto che venga fatto, non per raccattare qualche voto in più, non perché così allora do il contentino e quello mi vota, la sua famiglia mi vota, mi fa il piacere, uno scambio di piaceri, no, no. Se uno vi cerca il voto promettendovi delle cose, no. Evitatelo, vi siete già risposti, vi siete già tolti il dubbio, ti asfalto la strada davanti a casa, ti faccio il terreno edificabile, ti faccio qui, ti faccio là. Bene, sapete già che quella è una persona da non votare, ve l'ha chiesto lui di non votarlo. quindi questo in un certo senso vi facilita anche la scelta. Se ci sono delle persone così, sapete già che sono persone che non vale la pena di renderle vostri amministratori, perché come fanno una cosa scorretta per farvi un favore, faranno sicuramente anche altre cose scorrette, sicuramente non ho, non esiste, ma è quasi sicuro, è molto probabile che facciano anche cose scorrette che andranno contro di voi, o no? Non è che tutto deve essere fatto per voi, probabilmente questo ragionamento lo fanno anche per tante altre persone, quindi cercate qualcuno che lavori onestamente. Pensate che state comunque parlando del posto in cui vivete. Si sentono discorsi che sono un po' allucinanti, cioè si sentono discorsi fatti come se si stesse parlando di qualcosa di astratto, di un videogioco, di chissà che cosa. Vi assicuro che ho sentito persone a capo di partiti dire, cioè a capo, rappresentanti di partiti dire cose tipo a noi non interessa che non interessa che siano persone capaci, a noi interessa mettere il nostro simbolo perché è il nostro simbolo che vince, è il nostro simbolo che ci porta i voti, ma cosa? Ma cosa? Cosa ve ne fate di questi voti se poi non ci sono persone in grado di fare qualcosa? C'è chi cerca di fare delle liste scegliendo persone che questo è il figlio di, la figlia di, la nipote di, la moglie di, il parente di, il nipote di, e quindi uno può essere anche il figlio di Martin Luther King, può essere il figlio del Dalai Lama, può essere il figlio di chi volete, e chi se ne frega? Cioè non è che se il padre è capace lo è anche il figlio o la figlia, se c'è una persona che è capace votate la persona capace, non il suo parente, non il suo amico, perché il suo amico e il suo parente non saranno capaci, non saranno bravi come l'altra persona. Se voi avete bisogno, se vi si rompe un tubo in casa chiamate l'idraulico, non chiamate la moglie dell'idraulico o il figlio dell'idraulico, è perché magari non sanno fare quella cosa, ok? È una cosa banale, ma vi assicuro che le liste nei paesi sono piene di queste persone, cioè ma veramente, ma non solo le persone, i candidati consiglieri, ma anche i candidati sindaco, magari sono il nipote D, il figlio D o robe del genere. Cercate persone competenti, cercate delle persone preparate, cercate delle persone a cui dareste in mano il vostro portafoglio, non delle persone che siano brave a parlare o brave a fare i post su Facebook, cercate delle persone valide, perché sono quelle che fanno andare avanti il vostro paese. un'altra cosa che ho sentito dire è non mi interessa che ci siano persone capaci, mi interessa che ci siano dei burattini che obbediscono agli ordini del partito. Cioè, questa è una roba allucinante, non esiste una cosa del genere, ma chi se ne frega degli ordini del partito, se in questo posto c'è un'esigenza, lo deve sapere chi è di questo posto, una persona che è in regione, in provincia o che non lo sa, non gli interessa nemmeno di cosa succede nel vostro paesino, non vi cambia niente, non vi migliora la vita mettendo lo schiavetto di qualcun altro, mettendo una persona che non ha delle capacità però è bravo a riferire quello che dicono gli altri. Cercate qualcuno che le cose le sappia fare lui, non che sappia obbedire agli ordini di qualcun altro perché quando avrete bisogno voi ci sarà quella persona e quella persona non saprà che cosa fare, dovrà prendere in mano il telefono e chiamare il suo superiore del partito e dirgli che cosa posso fare e magari questo qua gli dirà marraggiati e è così che succede purtroppo quindi cercate qualcuno che sia capace di fare quello che serve e soprattutto ricordatevi che quando siete nella cabina elettorale ci siete solo voi e nessuno saprà dove avete messo la croce e che nome avete scritto. È uno dei pochi momenti nella nostra vita in cui siamo assolutamente liberi di scegliere in cui possiamo fare tutto quello che vogliamo possiamo scegliere chi vogliamo noi veramente non chi ci viene detto non chi ci conviene perché dobbiamo un favore una cosa o l'altra siate egoisti scegliete la persona che voi ritenete migliore scegliete la persona che sia capace detto questo non mi rimane che ricordarvi di andare a votare perché questa è una cosa ovvia un vostro diritto un vostro dovere un nostro diritto un nostro dovere e fatelo serenamente approfittatevi questo periodo per ascoltare tutti per parlare con tutti e confrontarvi con tutti è un momento di crescita sfruttiamolo al meglio con serenità con spirito propositivo e speriamo che si migliori ciao a tutti e al prossimo video ah dimenticavo like e condividi e iscrivetevi al canale se vi è piaciuto anzi fatemi sapere se anche questo genere di video vi può interessare o se è meglio se rimango a parlare delle solite cose e non e non degenero troppo ciao a tutti e al prossimo video